Il nostro oroscopo appunto partendo dall'Ariete Sì, iniziamo dal segno dell'Ariete, giornata negativa amici dell'Ariete purtroppo perché c'è una luna opposta, una luna opposta nel segno della bilancia significa che avrete molte pressioni su di voi in questo giorno, in questo mercoledì che riguardano soprattutto il lavoro quindi non avrete molto tempo libero a vostra disposizione da dedicare all'amore, alla passione che è la cosa che più vi sta a cuore in questo momento però attenzione perché c'è un mercurio fantastico nel segno dell'acquario significa che le occasioni arriveranno anche in questa giornata e voi dovete essere bravi a saperle cogliere e poi questa è una luna che può creare qualche discussione all'interno proprio della coppia ma in ogni cosa che farete, per esempio anche i rapporti con i vostri amici anche su Facebook, nelle discussioni che vi troverete ad affrontare nei forum che frequenterete insomma avrete questa vena sempre un po' polemica bene, e dopo l'ariete c'è il segno zodiacale del toro sì, un toro che invece mi...